Mi sentite? Sì, niente, un saluto rapidissimo. Ricordo che avevamo provato come eventi letterari da avere Paolo due o tre anni fa e dopo l'uscita delle otto montagne, ma un guaio di tipo climatico, forse c'era la neve che l'ha bloccata Washington e siamo rimasti naturalmente un po' dispiaciuti. Ci abbiamo riprovato quest'anno ed eccolo qui con la felicità del lupo che naturalmente è anche la nostra felicità. Grazie. Scusate, dimenticavo che è Michele Fazioli che l'ho intervista. Grazie al direttore degli eventi letterari Paolo Di Stefano, autore fra l'altro di un bel romanzo, noi, se ve lo siete persi, potete recuperare Bonpiani perché è un romanzo mondo, è un romanzo di una vita, di una famiglia, di uno struggimento, di una pacificazione. Paolo Cognetti, che voi siete qui ad ascoltare perché sapete che c'è un nuovo romanzo, ma perché soprattutto l'avete amato nelle otto montagne, anche se lui era già scrittore prima nelle otto montagne del 2016, e era già scrittore prima, traduttore, appassionato lettore, le otto montagne lo hanno consacrato. Pensate, ha venduto più di un milione di copie e mi diceva prima, stentavo a crederlo, ma è vero, che è stato tradotto in 40 lingue. Mi chiedo come si fa ad arrivare a 40. Quante ce ne siano nel mondo. La cosa più bella è stata un'edizione illegale trovata in Iran perché là non pagano i diritti d'autore e l'hanno tradotto per conto loro illegalmente. È stato bellissimo la comprata online. me la sono fatta spedire. Che bello. Alcune di queste edizioni in altre lingue sono presenti quasi come curiosità. Poi, alla fine del nostro incontro, è possibile acquistare il libro e comunque Paolo Cognetti firmerà volentieri le copie. C'è stato un aperitivo degli eventi letterari due settimane fa circa qui ad Ascona quando io ho introdotto e presentato, alcune e alcuni di voi c'erano già, ho presentato il documentario Sogni del Grande Nord, prodotto dalla RAI, un bellissimo documentario in cui Paolo Cognetti è protagonista di un lungo viaggio Canada, Alaska, nelle foreste del nord, nel gelo, sotto la pioggia, sotto la neve, alla ricerca delle memorie degli scrittori cari a Paolo Cognetti, Jack London, Harry Torreau, Hemingway, Raymond Carver, e poi anche di Christophe McCandless che è un giovanotto di 24 anni che scappò dalla sua famiglia via di casa per due anni, scomparso e visse in un bus abbandonato nei boschi dell'Alaska dove morì di consunzione, di fame per qualche altra ragione e Paolo Cognetti è voluto tornare lì fino a vedere quel bus e McCandless aveva scritto dei diari, dei folli, quindi un pellegrinaggio letterario. Io, prima di arrivare alla felicità del lupo, vorrei parlare brevemente di questo documentario perché intanto l'abbiamo presentato in prima Svizzera da Scona, non è ancora arrivato in Svizzera nelle sale, verrà presentato dalla RAI e ve lo raccomando. Paolo Cognetti a un certo punto dice quando senti che c'è una certa irrequietezza, Melville diceva è il momento in cui devi salpare di nuovo e poi lui ha aggiunto ero alla ricerca di un'altra frontiera ma non che fermasse qualcosa, un'altra frontiera da cui ripartire. Quindi l'irrequietezza ti ha portato a tentare non la verticalità ma la distesa infinita del grande nord. Sì, buonasera, grazie di essere qui, grazie dell'invito. C'è questo mito americano della frontiera non come luogo dove finisce qualcosa ma dove qualcosa comincia. È un mito che ha generato il West, il cinema Western ma anche la leggenda del grande nord. Insomma, quando la gente partiva per la corsa all'oro in Alaska si andavano a cercare l'oro ma andavano a cercare soprattutto un'altra vita. È un po' ingenuo pensare di prendere questo mito e portarlo sulle Alpi però effettivamente lo posso raccontare così. Del resto non sono l'unico. Leggendo Bonatti, per esempio, ci sono i suoi primi racconti di quando faceva l'operaio a Sesto San Giovanni alla Falc, viveva a Monza e sabato usciva dalla fabbrica prendeva il motorino e andava in Grigna ad arrampicare erano i suoi primi esperimenti con l'alpinismo e leggeva Jack London e lui pensava di andare nello Yukon sulla Grigna, sul lago di Lecco. Quindi le Alpi per noi nel nord Italia ma insomma anche qui da voi credo sono sempre state questo un altrove a portata di mano un piccolo grande nord mi viene da dire una frontiera che stava dietro le case, le fabbriche dove i nostri padri sono cresciuti e hanno lavorato e questo mito l'ho ereditato l'ho fatto mio forse lo sto declinando in una maniera contemporanea non penso di raccontare una montagna romantica mi pongo sempre l'idea di raccontare le cose che vedo adesso una montagna reale però so che vengo da lì che vengo da questa storia ho parlato di McCandless voglio dire che c'è stato un romaggio importante di John Krakauer intitolato Nelle terre selvagge è il film celebre di Sean Penn e lui è andato a trovare il bus dove è morto che non c'è più perché poi dopo un anno che eravamo andati là eravamo io e Nicola questo amico pittore e l'hanno rimosso perché c'erano troppi pellegrini come noi i giovani un po' così poco attrezzati alcuni sono morti perché richiedeva due giorni di cammino il sentiero per arrivare all'autobus e in mezzo c'è questo fiume Teclanica River un grande un grosso fiume per cui attraversarlo era sempre un problema e alcuni sono morti in questo guado se fosse successo qui da noi credo che avrebbero costruito un ponte messo delle guide e un biglietto di ingresso per il famoso autobus invece in Alaska sono un po' ma io li apprezzo per questo hanno pensato di risolvere il problema portando via l'autobus e ci sono queste ultime immagini in cui un elicottero militare di questi elicotteri americani con due eliche enorme imbraga l'autobus e lo porta via in volo quindi l'ultimo l'ultima avventura di quel rottame perché poi era veramente un mucchio di lamiere l'ho vista c'è un video di l'autobus che vola e sparisce credo che a Chris sarebbe piaciuto molto questo finale allora la orizzontalità estrema del grande norte la verticalità della montagna arrivando alla felicità del lupo io dico che non riveleremo siamo d'accordo con Paolo Cognetti la trama perché qualcuno magari ce lo compro stasera o non l'ha finito di leggere la cosa peggiore è togliere un diritto fra i molti che il lettore ha di provare lui in prima assoluta le proprie emozioni di fronte a un libro e quindi farò degli assaggi faremo degli assaggi ma qui per questa storia della verticalità dell'orizzontalità ho trovato nel romanzo la felicità del lupo un passaggio che sembra quasi dire che c'è una parentela strettissima fra le grandissime distese di migliaia di chilometri che vanno verso nord e l'altitudine Silvia è il nome della ragazza una dei protagonisti del romanzo di cui non dico molte cose cominciava ad aver sonno si era sdraiata su un fianco quando disse sai avevo trovato un libro di geografia per bambini lì in libreria diceva così che salire di millimetri sulle Alpi equivale a spostarsi verso nord di mille chilometri ah sì sì per il clima la flora la fauna e così via diceva che il clima cambia molto più rapidamente in altitudine che in latitudine perciò anche un breve dislivello vale come un lungo viaggio bella idea infatti io ho pensato beh non è male per girare il mondo se uno non ha un soldo ho preso un Atlante e mi sono messo a fare i calcoli ho cercato Berlino per esempio mille chilometri Londra sempre mille però non è che noi a mille metri d'altezza e poi trovi Londra e Berlino non è così che funziona ma a 3.000 chilometri a nord delle Alpi sai cosa c'è? cosa c'è? il circolo polare artico dunque in una giornata di salita su al Monte Rosa uno va al circolo polare artico e mi ha fatto molto impressione questo confronto fra la verticalità l'orizzontalità è proprio così è impressionante non è una immagine poetica è proprio così uno parte da Milano io dico sempre Milano perché è la mia città ma insomma dopo un paio d'ore di macchina e un paio d'ore a piedi si ritrova in un posto che assomiglia al circolo polare e trovi il ghiacciaio ci pensavo proprio quest'estate per molto tempo non ho frequentato i ghiacciai perché soffro un po' di mal di montagna quindi dopo i 3.000 metri so che sembra un paradosso Paolo Cognetti che soffre mal di montagna sembra una battuta dopo i 3.000 metri comincio a stare un po' male però ci ho fatto i conti con questa cosa e ormai la conosco e quindi dopo anni ho ricominciato ad andare sul ghiacciaio ed è veramente commovente pensare che stai lì nel cuore di questa megalopoli europea solo nel nord Italia siamo 20 milioni di persone le Alpi stanno al centro veramente di una megalopoli in cui forse saremo 30, 40 milioni di persone e c'è questo luogo dove ci sono i ghiacci della flora rarissima gli ultimi animali gli ultimi uccelli che abitano quelle quote una natura davvero estrema e sta lì per fortuna perché nessuno ci ha messo gli occhi sopra spero che non ce li metteranno mai nessuno ha pensato che fosse sfruttabile edificabile eccetera eccetera quindi in buona parte integra conservata è un mondo che non smette di affascinarmi a proposito sempre delle impressioni come dei piccoli assaggi poi avremo qualche assaggio un po' più lungo c'è una cosa che mi ha colpito quando un personaggio Sant'Orso che è uno dei pochissimi personaggi di questo libro si può dire che Sant'Orso è un uomo è un cacciatore un ex guardia forestale guida i gatti delle nevi è cacciatore ama la montagna le pelli di foca il vino e segue delle orme sulla neve le orme di una lepre tra gli abeti quelle della volpe che curiosava intorno alle stalle chiuse gli zoccoli dei cervi che dal bosco si arrischiavano fino alla strada asfaltata dove gli attirava il sale sparso per il gelo di lupi ancora nessun segno in autunno erano stati avvistati appena due valli più in là per cui era certo che sarebbero arrivati o forse già c'erano ma stavano in guardia studiavano la situazione dove la neve svaniva anche le storie si interrompevano come le cose che lui sapeva soltanto a metà e mi ha colpito moltissimo questo fatto che finché la neve ha le orme tu racconti la storia di queste orme quando la neve finisce la pagina finisce la storia finisce ecco hai preso due personaggi che sono proprio due opposti nel libro tra l'altro sono gli unici due che non si incontrano mai ci sono varie scene in cui i personaggi a due a due si incontrano ma loro due no Silvia è una ragazza di città non sappiamo bene dov'è cresciuta ma poi a un certo punto la rivediamo nel suo quartiere ed è una periferia urbana piuttosto degradata che cerca l'avventura in montagna cerca la scoperta è qualcosa che ho visto negli ultimi anni girando in montagna ci si accorge come l'umanità sia molto cambiata eravamo abituati a immaginarla e a pensarla come un posto vecchio come un posto frequentato da gente di una certa età soprattutto uomini un luogo molto maschile se chi ha mai frequentato i rifugi alpini ecco un tempo l'umanità che incontravi in un rifugio era questa maschi un po' barbuti un po' appunto che scambiavano tra loro questa ricordi racconti ma soprattutto questo cameratismo da rifugio alpino è molto cambiato non so se ci siete tornati di recente ma ci sono un sacco di ragazzi di giovani ci sono tante donne e soprattutto ci lavorano spesso le donne allora ho iniziato a vedere questa nuova tipologia che mi ha subito affascinato moltissimo di ragazze che lavorano nei rifugi alpini anche in luoghi scomodissimi ne ho trovate due quest'estate che lavoravano hanno passato tutta l'estate al rifugio Mezzalama che è un posto in Val d'Aiasa dove sono io a 3000 metri ed è ancora il rifugio di legno che fu costruito negli anni 30 del 900 senza riscaldamento senza nulla e ragazze che magari non erano mai state in montagna prima quindi non c'è un percorso come il mio quello era il posto delle stati di infanzia dove ho i miei ricordi che mi è stato insegnato da mio padre eccetera invece per questi nuovi montanari è un luogo assolutamente nuovo di avventura estrema e questo mi è piaciuto molto l'idea che la montagna sia diventata anche per qualcuno il luogo del sogno dove portare i propri desideri la propria idea di rivoluzione la propria idea di esplorazione di avventura e questa è Silvia invece Santorso Santorso si chiama così perché è il patrono della della Valle d'Aosta quindi mi piaceva ricordarlo in questo modo ma è anche il nome di una grappa da noi la grappa Santorso e lui è un po' così un po' monaco un po' ubriacone il sacro e il profano si incrociano in lui e questa cosa la scriveva Rigoni Stern della neve a un certo punto un suo racconto iniziava con stamattina sono uscito a leggere le storie scritte dalla notte sulla neve perché lui la mattina andava in bosco e osservando i segni degli animali di chi era passato di lì ricostruiva le storie della notte e quindi Santorso è il grande conoscitore del luogo è quello che legge il paesaggio lui parla poco osserva molto mi piace tanto è una cosa che ho imparato con il tempo ma non ho sicuramente finito di imparare chissà se mai la finirò di imparare questa lingua del paesaggio il paesaggio è una forma di scrittura racconta la presenza dell'uomo in montagna racconta la presenza degli animali racconta le stagioni racconta come cambiano come cambia la montagna nel tempo e se tu più la studi questa lingua più la più la godi devo dire perché c'è un piacere nell'osservare qualcosa che conosci sempre meglio e lui è un maestro in questo lui guarda e legge a volte le spiega le cose che legge a volte no se le tiene per sé e osserva passare questa strana nuova umanità che arriva sulle sue montagne così spopolate sono strane perché sono montagne da cui sono andati via tutti dove abito io i residenti fissi sono 15 in un paese che ne contava 80 negli anni 50-60 adesso siamo in 15 però quest'anno sono arrivati una coppia di quarantenni con tre bambini quindi da 15 siamo diventati 20 un aumento del 33% della popolazione in un colpo solo Fontana Fredda che è la località dove si svolge il romanzo è dove davvero Paolo Cognetti abita con il suo cane che è qui presente con l'amica di Paolo Cognetti come si chiama il cane è la Haki nella prima parte del documentario è presente in mezzo alla neve che corre davanti a te e Fontana Fredda esiste davvero è nel massiccio del Rosa ha parlato di Sant'Orso ha parlato di Silvia parliamo di Fausto che è il protagonista così come Pietro fu con Bruno il protagonista delle otto montagne visto che comincia così il romanzo posso dire subito che Fausto sale in montagna per cercare di rappezzare una maccatura della vita e si separa da quella che stava per diventare con cui viveva insomma Veronica doveva essere sua moglie insomma stava per sposarsi credo insomma era compagna da parecchi anni e dico l'inizio Fausto aveva 40 anni quando si rifugiò a Fontana Fredda cercando un posto da cui ricominciare conosceva quelle montagne fin da ragazzino e la sua infelicità quando se ne stava lontano era stata fra le cause o forse la causa dei problemi con la donna che era quasi diventata sua moglie dopo la separazione aveva affittato un alloggio lassù e trascorso un settembre un ottobre e un novembre a scarpinare per i sentieri raccogliere legna dei boschi e cenare davanti alla stufa assaporando il sale della libertà e masticando l'amaro della solitudine scriveva anche o perlomeno ci provava nel corso dell'autunno vide le mandrie lasciare gli appeggi gli aghi dai larici ingiallire e cadere finché con le prime nevi per quanto avesse ridotto all'osso le sue necessità finirono anche i soldi che aveva da parte l'inverno gli presentava il conto di un anno difficile e allora cosa fa? c'è un'osteria l'unico spaccio una baita un'osteria gestita da Elisabetta detta Babette il nome dell'osteria si dice nella seconda pagina e quindi lo anticipo si chiama Il pranzo di Babette che parafrasa il famoso racconto di Karen Blixen da cui è stato tratto il famoso film Il pranzo di Babette e Fausto cerca un lavoro e decide lui aspirante scrittore di fare il cuoco però lui va su per risanare una ferita per restituirsi in qualche modo quindi Silvia va su anche lei con le sue ammaccature Fausto va su con le sue ammaccature e questa Babette viene da lontano anche lei Fausto c'è un verbo che ho imparato da poco in montagna che è tacconare non so se ci sia anche qui nella Svizzera Tacconare? Tacconare? Lo conoscete? No Vuol dire è quando si rappezzano le piccole in una casa i piccoli danni in montagna si fa soprattutto in primavera perché l'inverno lascia dei danni quindi vai su con un secchiello di sali noi diciamo metterci una pezza ma non so vai a tacconare un po' i gradini i tubi così è un po' sempre quel rappezzare che si fa un po' tutti gli anni altrimenti le cose vanno in rovina e tutti vanno lì questi personaggi tutti sono attratti ma si incontrano imprevedibilmente in questo luogo Fausto nasce da un ricordo mio cioè a un certo punto ho fatto il cuoco in questo ristorante da Babette non avevo 40 anni ne avevo qualcuno di meno ma insomma ero rimasto era autunno ero rimasto senza soldi l'alternativa per me era scendere a Milano e trovare uno di quei lavoretti da scrittori con cui campavo già da tempo o il barista o l'insegnante a un corso di scrittura o qualche articoletto da scrivere così però quella volta proprio non avevo voglia di scendere di arrendermi di ritornare a una vita che mi aveva un po' stancato e casualmente c'era questa Babette Babette nel racconto di Karen Blixen è una comunarda bello parlarne qui al Monteverità perché era un'anarchica che faceva la cuoca chef in un grande ristorante di Parigi però era anche una rivoluzionaria e dopo la caduta della comune di Parigi era stata costretta ad andare via e le avevano trovato un lavoro da cuoca da governante insomma in una casa di due austere lugubri anze sorelle in un paesello figlia di un pastore protestante figlia di un pastore luterano bravissimo Filippa e non mi ricordo come si chiamasse quell'altro e lei riusciva a portare lassù con la sua cucina e con questa cosa folle che a un certo punto faceva di spendere tutta un'eredità che aveva ricevuto per fare un unico pranzo costosissimo in cui lei mise in scena tutta la sua arte però attraverso questa opera d'arte lei riuscì a portare tra i ghiacci della Norvegia la sua passione il suo amore la sua idea di rivoluzione la sua comune di Parigi in fondo e allora la Babette Mia che ha un'altra storia però arriva da una Milano che negli anni 80 vede esaurire tutto quello in cui si era creduto per un po' nei movimenti politici giovanili degli anni 70 questa cosa viene appena appena accennata ma insomma credo che poi questa Babette si riunisca riconduca ad altri personaggi che ho descritto io in i miei libri precedenti ho un grande interesse per per quell'epoca per Milano negli anni 70 e lei vedendo finire tutto vedendo gli amici a cui non rimane altro che andare allo stadio e provare l'eroina dice vabbè sentite io la mia rivoluzione adesso me la porto da un'altra parte e vado a passare un'estate in alpeggio e vediamo cosa succede lei non tornerà più giù da quell'alpeggio perché incontra un uomo ma a un certo punto rileva un ristorantino in questo improbabile paesello di fontana fredda e lo chiama il pranzo di Babette proprio dichiarando un po' che cosa ci fa lei lì e crea questa piccola isola di calore di amore di rivoluzione in un luogo che fino a quel momento era molto spento spopolato un po' triste e diventa un porto di mare questo è un luogo che esiste davvero questo pranzo di Babette ci arrivano gli scappati di casa da mezzo mondo non mi chiedere come facciano ad arrivare lì ma come è successo a me continua a succedere ad altri e quindi io quell'inverno lei mi disse ma tu sei cucinare io amo ho sempre amato cucinare mi piace moltissimo ho detto ma sì e allora puoi stare qua con me fai il cuoco e stiamo insieme quest'inverno e allora io scrittore uno che arriva dal mondo delle parole delle idee delle astrazioni è un lavoro triste per certi versi perché stai sempre lì da solo a girarti queste parole con cui tirar fuori tutti i tuoi ricordi i tuoi fantasmi le tue fantasie dopo un po' non ne puoi più allora improvvisamente è catapultato in un mondo dove le padelle ti ustionano le mani devi assaggiare le cose per sentire di cosa sanno i fumi ti intridono i vestiti tanto che la sera sono da buttare via perché sei di fritto sei di di salsiccia di polenta eccetera eccetera per me fu una gioia proprio questo questo cambiamento e non solo una gioia personale cioè finalmente sporcarsi le mani ma anche scoprire tutta l'umanità che in montagna sta un po' dietro le quinte noi andiamo là e vediamo i boschi le piste la neve e a volte non ci accorgiamo nemmeno che c'è chi lavora perché questo sia possibile ma una delle cose più belle che era nel ristorantino davamo da mangiare anche agli operai delle piste esisteva esiste tuttora il menù operai una cosa che a Milano non sarebbe quindi è vero quello che c'è il menù operai io credo che a Milano qualcuno sorrida come se tu dicessi una parola fuori moda che non che non esiste più che poi succede che vengono quelli che guidano i gatti delle nevi questi mostri pieni di luce sulle piste di notte fanno la pausa scendono questi erano gli operai della vista che venivano lì a cena e a pranzo c'era il menù operai che costava 11 euro primo secondo e caffè il vino non si poteva dare perché l'azienda della pista da sci diceva degli esami del sangue a sorpresa e quindi se ti beccava che avevi bevuto perdevi il lavoro quindi c'erano tutti questi montanari sai quando uno mangia ma le cose non hanno sapore perché se non puoi metterci un bicchiere di rosso insieme a un pezzo di carne è come avere qualcosa di che poi Paolo Cognetti è vegetariano sì giusto no perché prima a cena dice ma come al Monte Verità che era il luogo dei vegetariani hanno un menù solo di carne esatto io adesso mi spoglio e faccio il nudista qua sul palco e quindi ecco mi ha aperto tutto questo mondo che qua ho cercato di mettere in scena non è una montagna nobile idealizzata romantica è una montagna anche un po' sporca di quelli che ci lavorano ci vivono cercano di campare ma c'è un'umanità è anche una storia che ricorda guardate che qua c'è della gente che ci vive della gente come noi quindi non è una montagna retorica non è una montagna sentimentale nell'accezione più semplicistica del termine tuttavia si ha l'impressione che sia una montagna che non dico terapeutica ma in qualche modo partecipa alla cura della persona che si sente ferita perché tutte queste persone chiedono inconsciamente probabilmente alla montagna di partecipare al ripristino di sé al riassetto di sé e un po' succede senza anticipare nulla siamo nel 2021 sono proprio quest'anno cent'anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern infatti mi fa molto piacere ricordarlo e fu il primo forse in Italia a raccontare della montagna che cura lo fece nel suo secondo libro il bosco degli Urogalli a cui sono affezionatissimo sono racconti in cui lui parlava di reduci lui raccontava del suo ritorno a baita dopo gli anni da soldato lui era stato soldato tra il 1938 quando si era arruolato ad appena 17 anni fino al 45 quindi sette anni da soldato di cui l'ultimo anno in campo di prigionia e quindi inizia questo racconto parlando di uno che è ancora un ragazzo perché aveva 24 anni ma è un vecchio per quello che ha visto e subito che arriva a casa ma non riesce assolutamente a tornare a qualche parvenza di normalità si sveglia di notte gridando non riesce a stare a tavola con sua madre e suo padre non riesce a raccontare come spesso succedeva a quelli che tornavano scopre che l'unica cosa che gli allevia un po' questa sofferenza è andare in bosco come diceva lui e c'era una frase in cui diceva anch'io a quei tempi mi aggiravo per i boschi come un orso ferito così si definisce e dopo un po' sente che la montagna lo cura lo accoglie non gli chiede niente gli lascia il tempo per pensare per ricordare inizia a infondergli una certa calma e dopo un po' forse non guarisce mai Mario perché fino agli ultimi anni lui continua a scrivere dei suoi ricordi di guerra delle persone che erano morte forse alla guarigione non arriva mai però scoprì questa montagna che cura e io in qualche modo l'ho fatto mio questo mito perché poi in letteratura è diventato un mito bello che è stato declinato da tanti in tanti modi è vero che c'è in questo libro più che nelle otto montagne un riverbero è diverso per temperamento ma certamente rintracciabile di Mario Rigoni Sterna fra l'altro è un libro che odora di montagna parli dell'odore del fuoco di legna di larice che è l'odore dell'infanzia e io che ho frequentato l'estate anch'io le montagne anch'io sento il fuoco di larice per noi è la Madeleine di Proust è diverso che è pieno di resina l'odore è diverso continuiamo i carotaggi i carotaggi senza svelare la trama allora Silvia questo lo possiamo dire Silvia a un certo punto si alza di quota e va a lavorare d'estate nel rifugio Quintino Sella su nel Monte Rosa nel massiccio del Monte Rosa altitudine 3585 va su va molto in alto e qui la montagna che non è appunto né retorica né sentimentale ma è una montagna che partecipa ineffabilmente alla cura delle persone che bramano la cura la montagna diventa diventa qualcosa di misterioso di notte alle 3 del mattino che bisogna alzare a fare il caffè le termos per gli alpinisti che partono in cordata con le guide Silvia esce deve pulire anche i bagni insomma fa di tutto secchiello scopa e poi esce di colpo e si trova il ghiacciaio illuminato e il Monte Rosa ne parlavamo a cena è questo massiccio da cui si guarda giù 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 fino in fondo vedi tutto il mondo e questa immagine mi ha colpito ve la offro ve la offre Cognetti quando uscì dai bagni il ghiacciaio era luminescente raccoglieva il bagliore del cielo stellato e lo rimandava nella notte davanti a quella visione quando era sola Silvia si sentiva il cospetto di un corpo celeste un pianeta perennemente levigato dal vento non arrivava altro suono da lì era un deserto immobile e perfetto e bianco voltandosi verso la valle vide le luci dei paesi duemila metri più in basso ecco il vecchio pianeta azzurro invece ne stava sperimentando una forma acuta di nostalgia era così vicino da poter distinguere i lampioni le rare auto lungo le strade i distributori di benzina pensò che laggiù fino a poco prima i ragazzi bevevano una birra in piazza fumando e chiacchierando con la musica che usciva dai locali sul vecchio pianeta azzurro su quel gran casino di pianeta era appena cominciata l'estate poi sentì di nuovo freddo e rientrò che bella questa immagine due pianeti e uno guarda l'altro ed è vero è proprio così uno guarda l'altro dal monte rosa appunto non è una di quelle montagne dentro le valli in cui intorno vedi solo altre montagne vedi tutta la pianura vedi le luci vedi Milano se non ci fosse l'appennino ligure vedresti il mare dal monte rosa perché lì a cento chilometri da Genova poco più e anche qui c'è il sacro e il profano è una come dire una dialettica che c'è un po' dappertutto in questo libro uno dei problemi principali dei rifugi di alta montagna è la merda scusate la parola ma è proprio così ho un caro amico che è proprio il gestore del Quintino Sela lo gestisce da 80 anni scusate dagli anni 80 e mi raccontava questo quando io ero piccolo fino a non molto tempo fa le latrine nei rifugi sul ghiacciaio scaricavano direttamente sul ghiacciaio c'era un tubo che andava giù e infatti uno dei miei ricordi più uniti di queste posti dove mi portava mio padre era svegliarsi la mattina andare in bagno e sentire il gelo che saliva dal buco perché c'era l'aria del ghiacciaio che veniva su ed era dovevi fare veramente infrettissima tutto quanto e poi Adriano il gestore del Sela mi ha raccontato che un po' di anni fa c'è stata una causa enorme dove hanno non so incriminato comunque indagato tanti gestori di rifugi sul ghiacciaio per inquinamento delle falde acquifere a causa delle latrine soluzione di questo problema e questi sono i paradossi dei nostri tempi che ora tutto va a finire in delle cisterne che alla fine della stagione o comunque quando sono piene vengono portate giù da un elicottero che poi trasferisce la cisterna su un camion che poi va a smaltire tutto quello che noi facciamo a 3600 metri in qualche discarica di pianura questo è il modo per non inquinare le falde acquifere e accanto a questo del tutto profano c'è il problema principale di chi gestisce un rifugio lassù c'è il ghiacciaio che è questo mondo a cui spesso è talmente magnetico è talmente potente che spesso gli diamo un'anima noi quando leggete quando leggiamo del cambiamento climatico c'è chi descrive il ghiacciaio che si ritira come un essere morente come un dio ma in realtà è un pezzo di ghiaccio è un pezzo di ghiaccio che si scioglie eppure contiene leggevo di questi carotaggi sul colle dell'Is che è un posto sul monte rosa dove il ghiacciaio raggiunge la sua maggiore profondità altezza sono circa 200 metri di ghiaccio in questi 200 metri carotandosi va indietro di millenni perché sapete che il ghiacciaio è fatto a strati sono le nevicate un po' come nella crescita dei tronchi d'albero ci permettono di leggere quello che è successo se tu vai a trovare lo strato di ghiaccio di 200 anni fa puoi sapere quell'anno com'era l'aria che cosa c'era nell'aria eccetera ci sono studiosi del ghiacciaio così come ci sono studiosi di dendrocronologia che è lo studio degli anelli di crescita degli alberi e questo sta lì chissà quanti cadaveri in Monte Rosa si dice che impieghi tra i 50 e i 70 anni a restituire chi inghiotte si dice perlomeno è quasi una regola perché si sa a un certo punto qualcuno sparisce non si sa più nulla e dopo 70 anni si trova un vecchio scarpone ai piedi del ghiacciaio perché il ghiacciaio continua a scivolare giù e quindi anche lì quando gli associamo un'anima diciamo che la montagna inghiotte le vite poi le restituisce proprio come se fosse un mostro un dio un essere vivente e di nuovo come dice Babette a un certo punto in realtà è solo un mucchio di sassi su cui c'è il ghiaccio a proposito di questo fatto c'è un altro punto che mi ha colpito molto quando Fausto sale dove da ragazzo aveva visto il ghiaccio il ghiaccioio non trova più il ghiaccio e trova una terra nuova che non c'era quindi è freschissima l'emersione di questa terra quel posto non c'era né sulle carte topografiche né nei ricordi di Fausto lì 30 anni prima era tutto ghiaccio il suo padre lo portava a vederlo si intuiva che il ritiro era venuto da poco perché i massi non erano colonizzati da muschi e licheni né la sabbia era diventata terreno fertile solo qualche erba pioniera cominciava a crescerci Fausto si rese conto che stava osservando un pezzetto di terra appena emerso alla luce del sole non ancora nominato dall'uomo né segnato sulle sue mappe è bellissimo l'uomo nell'olocene di colpo vede affiorare la terra di ere geologiche di milioni di anni fa e questo nel giro di pochi anni tant'è vero che Fausto è memore di quando saliva con suo padre con suo padre una volta si erano messi a calcolare la portata dello spostamento del ghiacciaio e quanto ghiaccio si scioglieva al minuto all'ora al giorno un volume che alla fine a Fausto era sembrato inverosimile come poteva sciogliersi a quel ritmo e restare sempre uguale allora credeva che il ghiacciaio fosse eterno e immutabile una parte della montagna che avrebbe sempre ritrovato lì tra la roccia il cielo suo padre invece aveva capito cosa stava succedendo qualcosa scompare e qualcos'altro prenderà il suo posto gli disse così va il mondo sai siamo noi che abbiamo sempre nostalgia di quello che c'era prima è proprio vero papà pensò Fausto e usò quel posto e le ultime ore di luce per pensare a lui che non c'è più eh sì è così andarmene in giro vado spesso in giro da solo in montagna mi piace anche andare con gli amici però con gli amici succede che sono momenti di grande condivisione belli tra di noi invece andare da solo in montagna da momenti di grande profondità di meditazione di pensieri che nascono lì poi a volte li metto nero su bianco ed entrano in questi miei libri e mi ricordo proprio il momento in cui ho pensato ma questa roccia che io mi ricordo prima c'era il ghiaccio non ha mai visto la luce del sole o perlomeno non l'ha vista negli ultimi millenni cioè io sto vedendo un pezzo di terra che è emerso dal buio in cui la luce del sole non era mai caduta ma che miracolo e poi anche la appunto nella narrazione del cambiamento climatico della crisi climatica c'è tantissima retorica e come sempre quando un discorso finisce sulle prime pagine dei giornali sulla bocca di tutti è fastidioso perché diventa molto netto e poco sfumato invece come dovrebbero essere tutti i discorsi allora qualcosa che mi fa arrabbiare è quando viene raccontato che noi stiamo distruggendo il pianeta fa ridere perché noi non siamo in grado di distruggere il pianeta noi stiamo distruggendo noi stessi stiamo rovinando l'ecosistema in cui sappiamo vivere lo stiamo modificando ci stiamo incasinando la vita perché dovremmo trovare dei modi con migrazioni o sistemi elaborati per continuare a vivere qui ma la terra per la terra noi siamo come le foglie di un albero che germogliano e appassiscono nel giro di una stagione si dimenticherà di noi in breve tempo dopo che ce ne saremo andati riuscirà perfino a smaltire la plastica che abbiamo lasciato sicuramente e allora vedere che in realtà dove il ghiacciaio si scioglie non finisce il mondo non c'è l'inferno dove il ghiacciaio si scioglie anzi arriva arriva la vegetazione dopo la vegetazione prima arriva l'acqua ci sono questi laghi su tutte le alpi ci sono questi laghi senza nome questo per chi è appassionato di mappe come me anche è molto divertente perché tutto ha un nome tutto compare sulle mappe invece arrivi là e dici no ma questo lago non c'è sulla mappa che ho io perché in una mappa di 20-30 anni fa quel lago lì non c'era e non ha nemmeno un nome ancora non gliel'abbiamo dato e chissà quanto durerà poi questo lago magari tra altri dieci anni sarà scomparso un'altra volta però intorno al lago inizia a crescere l'erba e dove cresce l'erba iniziano a pascolare i camosci e allora ti accorgi veramente che la terra è più preparata di noi al cambiamento la terra può cambiare veder nascere deserti dove prima c'erano boschi o boschi dove prima c'erano ghiacciai e per lei va bene cambia la vegetazione cambia la fauna è per noi che non va bene e questo da una parte è consolante perché quando ti accorgi che la terra è così molto più grande duratura un po' questo ti consola dai danni e dalle brutture che noi stiamo seminando del resto in epigrafe al romanzo hai messo una frase significativa in questo senso di Barry Lopez da Suoni Artici che dice durante i miei viaggi finì per convincermi che i desideri e le aspirazioni degli umani facevano parte della terra come il vento gli animali solitari e le fulgine distese di pietre e di tundra e mi convinsi anche che la terra esisteva completamente separata da tutto questo eh sì Barry Lopez era un grande naturalista americano morto un anno fa circa aveva studiato per tutta la vita i paesaggi del grande nord l'Alaska il Canada la Groenlandia la Siberia paesaggi così rarefatti così ostili chissà come può venire a uno l'amore per luoghi del genere e però si era accorto che tanto erano rarefatti quanto erano pieni dei sogni di alcune persone come lui erano li definiva proprio luoghi del sogno non a caso il suo libro più famoso più bello si intitola sogni artici è come se là nel grande nord abitassero i nostri i sogni di alcuni di noi e io l'ho sentita subito vera rispetto alle alpi alla mia montagna perché alla fine in questi anni non ho incontrato tanti che sono stati costretti a rimanere lassù anzi nessuno è costretto a chi chi non amava quel posto se ne è già andato sono rimasti quelli che lo amano e continuo a incontrare questi bizzarri personaggi tutti un po' strani che pensano che quello sia il luogo più bello del mondo e anche se ci abitiamo in quindici e poi racconto di cosa succede quando queste persone si incontrano tra di loro inevitabilmente scoccano degli amori delle amicizie dei rapporti molto particolari però la terra tutto questo non interessa anche di quest'altra cosa mi sono accorto cioè noi amiamo la montagna ma la montagna non ama noi non le interessa non prova niente per noi i vecchi contadini l'ho ritrovata da poco quest'idea dicevano la terra serve a noi ma noi serviamo alla terra perché noi la dobbiamo coltivare perché la terra dia frutto quindi anche la terra ha bisogno di noi oggi credo che questa idea sia cambiata la terra non ha nessun bisogno di noi anzi probabilmente festeggerebbe della nostra scomparsa ma ci ma ci vede passare un libro che è stato molto importante per ispirare questo che ho scritto sono le 36 vedute del Monte Fuji di Okusai di cui si parla che anzi è stato questo libro è diviso in 36 capitoli perché è una rielaborazione di quel lavoro lì un capolavoro di questo pittore dell'Ottocento che in tarda età dopo i 70 anni fece la sua opera più bella 36 disegni del Fuji visto da prospettive distanze diverse in cui la montagna è sempre là molti di voi ricorderanno la grande onda di Kanagawa il disegno più famoso è quello di questa onda gigante che sta travolgendo delle barchette di pescatori e sullo sfondo proprio al centro dell'onda c'è il Fuji mobile che osserva la scena e in tutti i disegni viene messo in scena questo contrasto tra l'umanità davanti che lavora ci sono boscaioli pescatori raccoglitrici di riso eccetera l'umanità che fatica le stagioni che violentemente colpiscono il lavoro dell'uomo con venti con piogge quindi un'umanità affaticata che non se la gode per niente e la montagna dietro che assiste osservandolo anche qui meditandoci un po' sopra ti chiedi è una montagna protettrice è una divinità è una presenza benevola dopo un po' dici no questa è un po' un'illusione nostra è la terra che assiste alla nostra vita forse anche un po' perplessa da quello che facciamo noi e questi disegni questo genere pittorico ai tempi di Okusai si chiamava Ukiyo-e che significa immagini del mondo fluttuante dove il mondo fluttuante è il nostro siamo noi che siamo delle foglie al vento e la terra dura mentre noi passiamo del resto hai citato i sogni artici e nella parte finale di questo romanzo che non ha nulla a che fare con la trama perché è la filigrana di cui parla lui gli amori i sentimenti ci si innamora si vive si ha fame si arrabbia si fanno figli insomma c'è una trama romanzisca però Paolo Gognetti racconta in una notte i sogni cioè accenna ai sogni che ciascuno fa persino il lupo nel bosco e questi sogni facevano parte del paesaggio di Fontana Fredda tanto quanto i boschi devastati dal vento le cataste di tronchi invendute i torrenti in secca dell'autunno i caprioli che uscivano a pascolare sulla pesta da scin non ancora innevata le villette buie i mirtilli appassiti e i larici che cominciavano a ingiallire i cani vagabondi dei pastori e lo strato sottile di ghiaccio che si andava formando nelle vasche delle fontane Fontana Fredda era fatta in ugual misura di realtà e desiderio e intorno a Fontana Fredda la montagna esisteva del tutto indifferente ai sogni di questi esseri umani e sarebbe continuata a esistere al loro risveglio c'è tutto quello che hai detto è così sì mi piace molto la dimensione del sogno ce ne sono alcuni in questo libro ma forse è tutto un libro un po' onirico perché in fondo è un sogno il libro stesso l'ho scritto in gran parte durante i vari confinamenti che abbiamo avuto che ho passato a Milano e quindi la montagna era lontana e me la sognavo la scrittura è un sogno a occhi aperti perché mi alzavo la mattina e in quella situazione così difficile però c'era questo grande potere della scrittura di aprire il quaderno oppure il computer e tornare là dove avevo tanti ricordi in un bosco con i larici caduti nella cucina di Babette con le pentole fumanti nella cabina dell'abitacolo di un gatto delle nevi con un amico che mi aveva portato una notte a a battere la pista o su un ghiacciaio a 3500 metri ecco potevo semplicemente concentrarmi e e tornare lì e quindi questo libro è il mio sogno di montagna e la cosa molto bella che mi sta succedendo in questi giorni è uscito da poco da un paio di settimane che i primi lettori mi dicono che è così anche per loro cioè che anche per loro questo piccolo libro ha il potere di portarli in montagna e di entrare in una quasi in uno stato di sogno e mi fa contento non so se sogni il lupo però sono sicuro che sogni al cane perché vedo spesso l'Aki avere dei sogni piuttosto agitati agitati beh il lupo perché uno dice perché la felicità del lupo anche qui il lupo non entra nelle storie dei sentimenti ma il lupo c'è mi diceva Paolo Cognetti con la sua amica a cena che loro sentono il lupo il lupo lo sentono lo percepiscono il cane che una volta di notte usciva a fare le sue scorribande adesso non esce più perché ha sentito il lupo e sentite come appare il lupo nel romanzo di Cognetti da qualche parte Fausto un bellissimo paragone fra la stanzialità degli alberi e la mobilità degli esseri animali da qualche parte Fausto aveva letto che gli alberi a differenza degli animali non possono cercare la felicità spostandosi altrove un albero viveva dove era caduto il suo seme e per essere felice doveva arrangiarsi lì i suoi problemi li risolveva sul posto se ne era capace e se non era capace moriva la felicità degli erbivori invece inseguiva l'erba a Fontana Fredda era una verità lampante il marzo in Fondovalle il maggio nei pascoli dei mille metri l'agosto negli alpeggi intorno ai duemila e poi di nuovo giù per la felicità più piccola dell'autunno la seconda modesta fioritura il lupo obbediva a un istinto meno comprensibile Santorso gli aveva raccontato che non si capiva esattamente perché si spostasse l'origine della sua irrequietezza arrivava in una valle magari trovava abbondanza di selvaggina eppure qualcosa gli impediva di diventare stanziale e a un certo punto lasciava lì tutto quel ben di Dio e se ne andava a cercare la felicità da un'altra parte sempre per nuovi boschi sempre oltre il prossimo crinale dietro all'odore di una femmina o all'ululato di un branco o a nulla di così evidente portandosi via il canto di un mondo più giovane come scriveva Jack London da qui la felicità del lupo si scriveva così sono andato a riguardarmi il finale del richiamo della foresta e dice che Book unendosi al branco e riscoprendo la sua anima di lupo emetteva dalla gola The Song of a Younger World il canto di un mondo più giovane bellissimo allora l'ho rimesso qui ed era anche questa una meditazione sulla felicità degli esseri umani perlomeno gli esseri umani come siamo fatti noi per tutti noi credo insomma la felicità sta nel partire nel cominciare nel innamorarsi partire per un viaggio avviare un grande progetto eccetera eccetera così sono fatto io la mia educazione la mia cultura e la cultura occidentale allora c'è questo lupo che non riesce a fermarsi e deve sempre andare a vedere cosa c'è di là oltre la prossima montagna però in questi anni mi affascina molto di più la felicità dell'albero forse un'utopia forse è irraggiungibile ma la felicità del restare la felicità di un essere che decide che qualunque cosa sia la felicità che poi è così difficile da definire certo non può essere altrove perché non che senso ha pensare che la felicità sia in un luogo che io la debba andare a cercare se c'è da qualche parte è sicuramente in me e quindi sono io che la devo costruire o trovare dentro di me e in questi anni mi piace tanto questa idea la sto la sto perseguendo devo dire è un'idea più orientale infatti mi avvicino attraverso per esempio lo yoga se ci pensi lo yoga è fare tutta una ricerca tutto un viaggio lì sul posto in quel tappetino di un metro quadro e davvero puoi sperimentare delle sensazioni estreme pur stando lì e poi in tanti altri modi ecco che sarebbe troppo lungo stare qui a raccontare ma sto cercando di esplorare questo la felicità del restare allora nonostante quel desiderio di una frontiera nuova oltre la quale ripartire adesso Paolo Cognetti è un po' meno lupo è un po' più albero mi piacerebbe la montagna qui viene letta anche quasi metaforicamente perché la si legge anche scendendone e risalendola Fausto a un certo punto deve tornare deve tornare in città scende è autunno Fausto provò una specie di stupore nel discendere la valle viene via da Fontana Fredda già ai tre villaggi la neve era quasi scomparsa è primavera non è autunno già ai tre villaggi la neve era quasi scomparsa e sotto i mille metri l'erba prendeva colore il bosco di abete e l'arice si popolò di betulle roveri faggi aceri castagni diventò più fitto e rigoglioso e la pietra delle case fu sostituita da mattoni e tegole e infine dal cemento dei capannoni al casello dell'autostrada gli venne naturale accendere la radio e capitò sul notiziario delle otto arrivava tutto insieme il fondo valle l'autostrada i camion le otto di mattina le notizie trascurabili del giorno dunque alberi diversi alberi sempre di altra specie e a poco a poco il rumore giù del mondo così complesso e più avanti quest'altra metafora lì sul balcone dove si trovava è ormai in città la voce di lei gli mancò immediatamente era il telefono con lei che era rimasto su giusto osservò il bosco e si accorse che i rami più esterni dei larici cominciavano a ingiallire erano gli alberi di fontana fredda alberi del sole del vento dei versanti a mezzogiorno però non amavano il gelo non è questo il pezzo che dovevo leggere è questo non lo trovo ma fa niente lui scopre che giù l'umanità che incontra non è fatta solo di italiani di mezz'età che amano la montagna è fatta di etiopi di neri di migrati c'è un paragone fra gli alberi che cambiano i lecci i faggi prima c'erano solo conifere giù l'umanità cambia si arricchisce di altri alberi mobili anche questo riportare un po' attraverso delle note le sensazioni che vivo che ho vissuto io se stai tanto in montagna quando scendi in primavera due cose ti colpiscono a Milano uno i corpi delle donne se almeno sei sensibile alla questione nel senso che in aprile maggio in montagna sono ancora tutti infagottati strati di lana un po' informi così arrivi a Milano inizia a vedere i sandali i polpacci le spalle la pelle dice ah che bello c'è il passaggio in cui Silvia a Monterosa si gela in settembre lei deve scappare arriva giù e trova spalle nude di donne e sandali e piedi nudi e trova un mondo che non riconosce e poi la varietà umana sì lassù devo dire di varietà non ce n'è molta a un certo punto ho descritto questo nepalese che ho incontrato veramente lavorare nei rifugi ma per il resto è un'umanità molto bianca è un'umanità molto omogenea come provenienza solo larici sì solo abetti larici parecchio maschile anche e quindi scendere in città significa invece riscoprire quanto il bosco può diventare vario fitto e anche rigoglioso questa discesa di Fausto in città non è una discesa nel brutto anzi credo che sia abbastanza chiaro che lui è meravigliato dopo mesi di montagna nello scendere a Milano e ritrovare il bello della città le persone la piazza del Duomo che non si ricordava più e dice ne era stato fuori ma non è che quel mondo avesse smesso di interessargli o di piacergli ed è quello che provo io spesso scendendo in città infatti non ho mai deciso di andarmene a stare in montagna e basta perché c'è qualcosa nella città di prezioso l'umanità non ha generato solo schifezze per fortuna ha anche fatto delle cose belle l'arte la musica l'architettura bella le belle città la cultura la letteratura queste cose in montagna mancano terribilmente c'è il bello della natura ma non c'è il bello dell'uomo e quindi quando torno in città questa cosa invece la vedo proprio la vedo e per fortuna un po' ancora mi meraviglia il resto Silvia quando scende a sua volta dirà a Fausto per poter ripartire io devo anche ritornare deve tornare giù a fare dei conti ma non anticipiamo nulla e poi c'è l'altro aspetto che è quello della forza e della memoria che dà calore spessore solidità materia senso a ciò che uno vive tant'è vero che Fausto al rifugio pulì i resti di formaggio fuso con il pane e si versò l'ultimo bicchiere di vino poi appoggiò la schiena al muro e si rilassò dalle finestre vedeva addensarsi le nuvole del pomeriggio il vino il tepore del rifugio la nebbia che saliva le gambe stanche quasi quasi si addormentava lì seduto chiuse gli occhi e si sentì proprio come una volta ma adesso era meglio di una volta perché c'erano i suoi ricordi di mezzo è così che deve essere un rifugio pensò vale di più se custodisce qualcosa di tuo e io mi sono ricordato quando avevamo presentato a un circolo di lettura le otto montagne che mi aveva colpito sta roba dicevo anch'io pensavo la vera montagna che amiamo non è un assoluto astratto sono i sentieri che abbiamo risalito verso l'altura della nostra vita e Pietro il protagonista delle otto montagne dice era come se attaccando lo stesso vecchio sentiero una volta all'anno si addentrasse tra i ricordi e risalisse il corso della propria memoria poi è stato in Himalaya bellissima la montagna è la montagna per eccellenza pensai che tutte le montagne in qualche modo si somigliano eppure non c'era niente lì a ricordarmi di me o di qualcuno a cui avevo voluto bene ed era questo a fare la differenza il modo in cui un luogo custodiva la tua storia eh sì mi sono accorto di aver riscritto la stessa cosa mi hai beccato ogni tanto scrivi una frase e dici ma questa l'ho già scritta speriamo che non se ne accorga sai di cosa è la conferma che in certi punti lo scrittore deve ripetersi perché altrimenti non è vero sì sì ma infatti spesso quando vado in giro come anche qua oggi mi chiedono ah ma le conosci queste montagne e mi dispiace sempre rispondere no oppure sì poco perché secondo me gli amanti della montagna sono persone che soprattutto tornano nei loro posti a volte capita di salire un'altra montagna dire e pensare ah ma che bello guarda qua provare anche un po' il senso dell'esplorazione che è entusiasmante ma poi tornare alla tua dove veramente è custodito sempre di più ne me ne accorgo più passano gli anni all'inizio pensavo che lì ci fossero i miei ricordi di infanzia quando sono tornato e allora andare in montagna significava ripensare a mio padre a dove eravamo tutti insieme con la mia famiglia eccetera adesso che sono passati diversi anni dal mio ritorno non c'è solo quello ci sono anche le persone che sono passate di lì negli ultimi 10-15 anni i nuovi amici che ho incontrato l'amore che si è sviluppato lì in questo libro ci sono tanti i miei ricordi veramente e sono tutti raccontati da quel posto quel posto si arricchisce sempre di più si stratificano tutti i ricordi sono lì non so perché questo non succede a me non succede in città mi succede in montagna perché deve succedere lì a ognuno succede da qualche parte ed è vero che certi luoghi sarebbero nulla se non fossero intrisi della memoria che gli dà una fisionomia diversa stiamo andando purtroppo il caso di dire verso la fine perché poi Paolo Cognetti firmerà ben volentieri al banco dei libri le copie che vorrete fargli firmare voglio ancora darvi un assaggio Babette che a un certo punto scrive una lettera non è importante perché che parla dell'abitudine a un paesaggio che per amarlo devi abitarlo conto devi starci nello stesso tempo per amarlo devi anche distaccarsene mi viene in mente Pavese un paese bisogna averlo non fosse altro che per poterne andare via e che poi lui tiene la memoria di te il paesaggio cui sei abituato ti dà un senso diverso di familiarità o di oppressione a volte ma poi in realtà non lo vedi neanche più se non quando torni dopo essere stata lontana oppure negli occhi di un nuovo arrivato sta scrivendo a Fausto allora provi un po' di tristezza ripensando ai tempi in cui eri nuovo anche tu e nuovi gli occhi con cui guardavi con il tempo tutto diventa normale le parti belle le parti brutte il cattivo gusto degli umani smette di darti così fastidio e l'eleganza della terra ti fa solo compagnia eppure penso anche che solo chi si abitua vede davvero perché ha sgomberato il suo sguardo da ogni sentimento i sentimenti sono occhiali colorati ingannano la vista conosci quel detto zen che parla di montagne dice prima di avvicinarmi allo zen per me le montagne erano solo montagne e i fiumi erano solo fiumi quando ho cominciato a praticare le montagne non erano più montagne e i fiumi non erano più fiumi ma quando ho raggiunto la chiarezza le montagne sono tornate montagne e i fiumi sono tornati fiumi credo che tu e io questa storiella la possiamo capire bene perché quel posto è pieno dei significati che gli abbiamo dato noi i significati stanno lì tra i campi i boschi e le casette di pietra quando per me la montagna significava libertà vedevo libertà persino nelle mucche al pascolo ma la montagna in sé non ha nessun significato è solo un mucchio di sassi su cui scorre l'acqua e cresce l'erba ora per me è tornata a essere quello che è e questa è la riflessione cui accennavi prima la montagna è di per sé indifferente ma noi la abitiamo questi sono pensieri del tanto guardare ecco uno nasce tutto dal tempo passato lassù spesso da solo a guardare fuori dalla finestra a fare i soliti giri a guardare 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 riempirsi gli occhi di questi profili ormai così così noti così amati che li potrei disegnare occhi chiusi la paura che a un certo punto non significano più niente perché ci sono dei giorni in cui vado in giro per la montagna e non provo nulla e ho paura dico oddio forse è arrivata per me l'ora di Babette in cui questo posto non mi emoziona più allora cosa significa è l'ora di andare via e e poi per fortuna stando via per un po' vedo che invece tornando di nuovo i sentimenti nascono c'è una a me interessa molto questa letteratura che vedo nascere anche da altri che nasce dal rapporto tra l'uomo e il paesaggio naturale la nostra letteratura italiana è stata sempre così urbana se ci pensate è una letteratura che vive da sempre negli spazi abitati nella città nel paese nelle case forse perché siamo una civiltà così vecchia così antica che da sempre abitiamo gli spazi antropizzati e invece abbiamo pochissimo di letteratura di paesaggio rapporto tra uomo e alberi rapporto tra uomo e animali rapporto tra uomo e grandi spazi acque eccetera nella letteratura americana questo c'è molto di più ed è uno dei motivi per cui ci sono così legato ma mi sembra che lì ci sia una strada da poter percorrere come scrittore negli ultimi anni sto leggendo molta più letteratura di bosco che letteratura che narrativa mi piacciono moltissimo i libri che raccontano il bosco sono ultimamente ancora più attratto dalle piante che dagli animali leggo poco sui lupi per esempio più sui larici i libri di Stefano Mancuso non so se li conoscete li trovo ricchissimi ricchissimi di elementi su cui meditare l'ultimo addirittura io ho avuto una formazione una formazione ho avuto per me è stato molto importante il pensiero anarchico ci sono legato ci sono idee che tuttora per me sono importanti erano qui gli anarchici eh lo so infatti sono contento di essere finalmente qui lo so quella finestra là con su scritto anarchia che dà sulle rocce l'ho fotografata prima e allora stavo leggendo questo Mancuso che a un certo punto racconta di come gli alberi si aiutino tra di loro e dice a differenza di molti animali che lottano per l'egemonia per chi comanda per chi è il leader e che quindi il cui rapporto è sempre conflittuale la vita delle piante è impostata sulla cooperazione e sulla darsi una mano a vicenda sul proteggersi a vicenda io lo leggevo e pensavo ma questo è Kropotkin questo è la teoria del mutuo soccorso giro pagina e mi si accende la parola Kropotkin e proprio Mancuso parlava delle piante come di una società anarchica ideale che forse anche gli uomini e le donne potrebbero provare a costruire e quindi mi sono detto ma guarda un po' come tutto torna certe volte in una vita sei partito da leggere Bakuni e Kropotkin e leggere Jack London cose assolutamente disparate adesso sei finito a leggere Mancuso e a ritrovare qua tutte le idee che sono state importanti per te avete capito che è nata una profonda conversione di Paolo Cognetti da lupo in albero questo è una rivelazione questa sera e infine l'ultima annotazione che voglio fare è che questo romanzo che ha delle storie in questo romanzo si mangia molto fra l'altro non solo il cuoco c'è l'odore del cibo c'è l'odore del fumo dell'aria si fa l'amore ci si innamora c'è qualche incertezza si desidera la felicità si sogna ma nello stesso tempo c'è sempre questa dicotomia fra profano e sacro ho detto fra il brusio del mondo e un ineffabile bagliore molto il pianeta azzurro addirittura un ultimo guizzo c'è nel bar lì di Babette c'è festa arrivano giù quelli dei gatti delle nevi si beve si abusa un po' della grappa la musica usciva dal piccolo bar e fuori qualcuno fumava qualcun altro si fermava a far benzina quelli che si fermavano vedevano la festa ed entravano a bere un bicchiere i boschi salivano oltre le case neri e indistinti fino alla quota delle praterie dove la neve rifletteva la luce della luna di nuovo Silvia che dal ghiacciaio guarda il lampione i ragazzi che fumano la musica del bar e sopra ineffabile la luce della neve nella luna e ci si guarda ho questo mio amico Dario che fa il falegname che abita in una baita in una valle del Canavese che l'altra volta mi ha detto ah sai mi sono comprato un bellissimo telescopio e io gli ho detto caspita chissà cosa guardi da lassù col telescopio e lui mi ha detto nei giorni più belli si riesce a vedere Milano e mi guardo le tre torri della il dritto lo storto il curvo e quindi ci si guarda ecco con la montagna che bello la conversazione con Paolo Cognetti deve interrompersi qua qualcuno di voi ha una domanda specifica brevemente oppure vi basta quest'aura che abbiamo seminato Paolo Di Stefano ha una domanda una cosa se conosci Francesco Biamonti che appunto è proprio uno scrittore che ha un rapporto straordinario lirico ed è un narratore con la natura e poi la seconda cosa è se non pensi che questo rapporto con la natura in Italia passi attraverso la poesia più che attraverso la narrativa sì hai ragione sì conosco Biamonti era tra l'altro era anche amato da Rigoni Stern scrittore di quel mondo così tipico così unico che è la Liguria in cui il mare e la montagna sono così stretto contatto una montagna che dà sul mare scrittore molto difficile anche meno se Rigoni Stern si dichiarava uno scrittore che perseguiva la chiarezza scrittori della semplicità invece ci sono anche scrittori dell'oscurità che richiedono un certo lavoro per essere avvicinati e secondo me Biamonti e tra questi e poi la poesia sì infatti guarda negli ultimi anni leggo soprattutto libri di bosco libri di buddismo e libri di poesia e queste cose mi sembra che stiano stiano bene insieme ho curato l'introduzione da poco di una raccolta di poesie di Grace Paley che era una scrittrice new yorkese ebrea che nella sua vita aveva scritto solo racconti fino a un certo punto e poi lasciata a New York per stabilirsi del Vermont in campagna ha deciso di lasciare perdere la prosa e mise non scrisse più racconti per scrivere poesie e proprio ho scritto di come per lei che si definiva soprattutto un'ascoltatrice fu questo cambio di ambiente sonoro l'ambiente umano la città il frastuono delle vie il baccano delle case popolari dove era cresciuta per lei era nella prosa era nel racconto invece i suoni del bosco dei fiumi eccetera per lei erano suoni che si addicevano alla poesia come avere cambiato strumento musicale quindi proprio così come dici tu una citazione orientale per finire c'è lo Sherpa il rifugio che si chiama Pazanka venerdì che viene dall'Himalaya e fa la stagione al Monte Rosa Silvia a un certo punto a lui è stato due volte sull'Everest questo Sherpa e Silvia stanno pulendo quei secchi forse le latrine anche Pazank posso chiederti una cosa? certo che sì ma tu che ci sei stato tante volte lassù l'hai capito perché ci vanno che cosa c'è su di là? vento vento e neve e poi magari il sole se non ci sono le nuvole lo Sherpa rise due volte l'Everest ma era impossibile distorcergli una qualche filosofia a parlare con lui tutto sembrava semplicemente stare al mondo secchio straccio vento sole neve bello eh? grazie 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 mille Paolo Cagnetti grazie grazie Michele grazie a nome suo libri voi sapete che il privilegio degli intervistatori è di farsi firmare per prima il libro grazie è grazie a tutti 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 grazie a tutti